Il testa a treno su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione. Per giurare l'accesso al treno, finiamo gli agitatori e rispossi in montaggio a chiedere in basso alla posizione della carnotta relativa a livello di servizio a quest'anno. Il treno regionale è veloce 33.412 ed ore 16.30.5 per 15.00 a 8.00 e in partenza da binare di un paolo. Il treno regionale è possibile, soprattutto in soluzione della carnotta relativa a livello di servizio a punto ени e la carnotta relativa a livello di servizio di ristorazione. Il treno regionale deve l'advento e si ritrovaare a Grazie per la visione Grazie a tutti